Che cos'è l'illuminismo? Che cos'è l'illuminismo? È una sorta di articolo che Immanuel Kant scrive per una rivista negli ultimi giorni del 1783 ma che poi verrà pubblicato l'anno dopo, nel 1784. Si tratta di una rivista di cultura e di filosofia di Berlino nella quale un pastore protestante, un predicatore insomma, aveva posto la questione, cioè aveva posto la domanda voleva dei chiarimenti, voleva sapere appunto che cos'è l'illuminismo anche per i risvolti pratici che potevano esserci sulla sua, tra virgolette, professione di pastore protestante. Lui si interrogava per esempio sulla questione del matrimonio religioso oppure no. Insomma, lancia questa domanda e Immanuel Kant di fatto, quando legge questo articolo di getto, in un certo senso scrive queste 5-6 paginette di questa risposta, di questo pamflet e poi però viene pubblicato l'anno dopo, sempre in quella rivista. Indubbiamente si tratta di un testo che può essere illuminante per noi appunto, perché ce lo spiega un illuminista che cos'è l'illuminismo e poi illuminante anche per aprirci un po' la conoscenza di questo straordinario filosofo che è nato in una regione che allora apparteneva alla Prussia, ma come vedete si trova sul Baltico. Oggi Kaliningrad si trova persino in Russia, quindi veramente una sorta è particolare. Sapete, avete in mente il corridoio di Danzica, questi territori che sono stati per molto tempo contesi fra Russia, Polonia, appunto Germania, anche addirittura, soprattutto la Germania nazista, perché voleva avere il grande progetto Hitler di restaurare una grande Germania e tutti questi posti che erano stati anche in qualche modo toccati, insomma, dalla cultura o dalla civiltà tedesca dovevano ritornare alla Germania. Lui nacque lì nel 1724 da una famiglia di condizioni immodeste. Non era tanto ricco Immanuel Kant, anzi, certe volte faceva anche fatica a sbarcare il lunario. Ricevette dalla madre un'educazione ispirata al pietismo, intenso senso della spiritualità e rigorismo morale. È evidente che poi dopo lui superò questo tipo di educazione religiosa rigida, però continuò a mantenere un certo rispetto per chi professava una religione come quella di sua madre, insomma, protestante, ad esempio. Frequentò il Collegium Fridericianum del pietista Schultz, studiando soprattutto il latino e i suoi classici e poco il greco. Ecco, è evidente che questo collegio era intitolato il primo Federico I di Prussia, ma lui vive soprattutto sotto Federico II di Prussia. Poi, finalmente, tra 1740 e 1747, studia Scienze e Filosofia all'Università di Königsberg. In seguito fa il precettore, quindi fa il maestro particolare, il maestro familiare, personale. E non è che se la passi così tanto bene, anzi, alterna la miseria a studi che però diventano sempre più approfonditi, in particolar modo gli studi degli ultimi filosofi degli ultimi secoli, Cartesio, Spinosa, Leibniz. Nel 1755 ottiene finalmente la libera docenza. Nel 1770, a 46 anni, diventa ordinario di logica e metafisica con la dissertazione De Mundi Sensibilis Atque Intelligibilis Forma et Principis. Quindi, riguardo alla forma e ai principi del mondo sensibile e intellegibile. Nel periodo tra il 70 e il 90, Davita, ai capisaldi del suo sistema, le famose tre critiche sono dei punti di riferimento della filosofia moderna e contemporanea. Soprattutto la prima, la critica della ragione pura che si occupa di ignoseologia è stata pubblicata nel 1781. Poi, ricordate quello che vi ho detto all'inizio, poi pubblicherà questo articolo insomma su che cos'è l'illuminismo tra l'83 quando lo scrive di fatto e l'84 quando lo pubblica. Poi, nel 1788 la critica della ragione pratica sull'etica sul comportamento il tu devi nel 1790 la critica del giudizio sulla teleologia e l'estetica cioè sul fine lo scopo e sull'estetica sul bello. Chiaro quindi che il libro o meglio scusate non il libro l'articolo di cui parleremo oggi si situa all'interno di un decennio che è quello della piena maturità di Immanuel Kant e dei suoi capolavori. Immanuel Kant è un illuminista legge ovviamente anche i testi francesi probabilmente avrà conosciuto soprattutto quelli di Voltaire perché Voltaire ha avuto un rapporto privilegiato con la corte di Federico II di Prussia c'è stato anche in Germania per un po' di tempo e anche perché condivide con Voltaire il buon rapporto con questo re insomma re di Prussia Federico II ma non solo indubbiamente ci sono degli elementi dei legami insomma forti che si esplicitano soprattutto in quest'opera perché poi nelle altre opere comunque Kant dimostra una originalità che gli permetterà di essere un punto di riferimento anche per l'Ottocento addirittura se vogliamo anche per l'idealismo che comunque lo interpreta a suo modo o per le filosofie addirittura si può dire quasi anche contemporanee la parola illuminismo è adottata nella lingua italiana e corrisponde in francese a lumière i lumi no? in francese usavano questa espressione i lumi poi spesso la legavano con altri termini e quindi chiamavano questa l'epoca dei lumi l'età dei lumi oppure il secolo dei lumi appunto il settecento invece in inglese il termine suona più o meno enlightenment enlightenment è in tedesco e ovviamente Kant scrive in tedesco Aufklärung ecco qui vedete die letteratur in the Aufklärung vuol dire la letteratura nel secolo dei lumi ecco dobbiamo sapere questo però a differenza di tanti illuministi soprattutto di coloro che poi cercano di attuare tra virgolette l'illuminismo qualche anno dopo nel corso della rivoluzione francese e che quindi furono dei rivoluzionari in realtà Immanuel Kant trascorse una vita piuttosto tranquilla fu un uomo retto rigoroso metodico ma non pedante e comunque che visse abbastanza appartato tra i suoi studi le sue lezioni l'unico scandalo della sua vita fu nel 1794 il contrasto con il re Federico Guglielmo secondo che fu re tra il 1786 e il 1797 che gli proibì di insegnare le idee sulla religione espresse nel suo testo la religione entro i limiti della ragion pura della pura ragione ecco attenzione non confondiamoci con i Federici ecco con i Federichi non so nel senso che Federico secondo abbiamo detto era un sovrano illuminato il suo successore che si fece chiamare Federico Guglielmo secondo con un Guglielmo in più diciamo era decisamente più rigido ecco il motivo per cui quando arrivò al potere subito fece capire a Kant che era diverso rispetto al suo predecessore e che non aveva nessuna intenzione di indulgere con coloro che esprimevano idee troppo personali ad esempio sulla religione Kant a questo punto non tenne più corsi sull'argomento negli ultimi anni Kant dovette lottare contro le interpretazioni deformanti della sua filosofia dovuta ai filosofi idealisti che incominciavano a diffondersi in quell'epoca però non riuscì assolutamente a far cambiare loro idea e dovette rassegnarsi al silenzio cessato l'insegnamento nel 1796 Kant morì nel 1804 ormai privo di quella lucidità di pensiero che aveva caratterizzato i suoi anni migliori qui è il posto dove si trova la tomba di Kant a Königsburg è nato a Königsburg è morto incominciamo pertanto a leggere leggiamo insomma dei piccoli brani tratti appunto da questo testo su che cos'è l'illuminismo adesso ho qua tutto il testo non so se riusciremo a leggerlo tutto proviamo a leggere almeno le parti fondamentali incomincia così questo testo con un incipit famosissimo cioè una risposta secca immediata senza tanti preamboli quello che dico anche tante volte ai miei alunni quando dovete fare un tema entrate subito in medias res cioè nel nel cuore dell'argomento senza tergiversare troppo che cos'è l'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza essere guidati da un altro immagine no? presa appunto dal tedesco Ausgang vi faccio capire che cosa intende l'illuminismo per illuminismo scusate Immanuel Kant cioè l'uscita dallo stato di minorità di cui è egli stesso colpevole questo stato di minorità cioè questo essere minore proprio da un punto di vista giuridico il minore è colui che non è responsabile delle sue azioni al cento per cento diventa responsabile una persona con la maggiore età quando diventa maggiorenne giusto? ecco è in questo senso che lui usa questo termine è come se noi fossimo consapevolmente noi nel senso gran parte degli uomini consapevolmente volessimo rimanere minorenni e non diventare mai adulti non diventare mai maggiorenni e questo per colpa nostra perché potremmo farlo minorità infatti spiega Kant è l'incapacità di servirsi della propria intelligenza senza la guida di un altro è chiaro evidente che quando uno è minore ha bisogno della guida di un altro lo dice anche la legge se uno è minore vuol dire che ha dei genitori oppure al massimo dei tutori che rispondono per lui delle sue azioni e comunque guidano questo minore nel suo agire e sono più responsabili questi tutori questi genitori rispetto a questo minore è nella maggiorità invece che uno si libera da questa guida da questo tutor e diventa del tutto autonomo e responsabile colpevole questa minorità se la sua causa non dipende da un difetto di intelligenza se uno fa un test di cui risulta che appunto il suo livello di intelligenza quotiente intellettivo è inferiore alla media allora possiamo dire che in questo caso non è colpevole uno se è minore giusto? nel senso che ha un handicap se vogliamo anche fisico insomma esterno cioè dovuto a cause esterne non dovuto a se stesso invece è come se gran parte degli uomini decidesse di avere di rimanere in uno stato di handicap consapevolmente come erano caratterizzate nell'unismo l'idea di progresso di felicità l'idea di futuro non è questo il focus della lezione di oggi anche perché poi i vari pensatori hanno idee diverse soprattutto di progresso se pensi tra Voltaire Locke e Voltaire da una parte e Rousseau dall'altra invece oggi vorremmo parlare un po' di questo stato di minorità di questo difetto che non è un difetto di intelligenza dovuto a un problema fisico ma è dovuto a noi stessi dalla mancanza di decisione e del coraggio di servirsi di essa senza essere guidati da un altro cioè praticamente come se Kant ci dicesse ascolta tu nel momento in cui diventi maggiorenne hai la possibilità di essere maggiorenne anche da un punto di vista intellettuale cioè hai tutti i mezzi tutti gli strumenti per pensare da solo senza bisogno che ci sia qualcun altro che pensa al tuo posto cioè senza bisogno di appellarti ad un'autorità a un tutor dicevamo a un punto di riferimento a una guida esterna a te anche quando parla di etica per esempio lui dice che non dobbiamo fare riferimento a dettami etici esterni a noi proposti da altri comandamenti o altre cose del genere ma dobbiamo trovare in noi stessi le leggi che possono guidare il nostro agire ebbene la stessa cosa vale anche per l'intelligenza noi non dobbiamo essere eterodiretti cioè fare in modo che siano altri a decidere al posto nostro ecco questo dipende da che cosa dalla mancanza di decisione certe volte lo dico anche ai miei alunni c'è bisogno oramai siete grandi non state diventando grandi c'è bisogno di maggiore responsabilità da parte vostra c'è bisogno di decidere non dovete pensare che sia l'ambiente o chissà che cosa a impedirvi di decidere di agire di scegliere dovete scegliere chiaro che attenzione nel momento in cui uno sceglie indubbiamente questo è rischioso perché quando scegli poi sai che puoi andare anche incontro delle conseguenze non sempre così piacevoli delle tue scelte cioè ti assumi le tue responsabilità diventi più grande diventi autonomo no? però questo automaticamente ti mette un po' più a rischio a pedicolo nel senso può succedere che questa scelta abbia delle come dire delle conseguenze non sempre così piacevoli però intanto tu sei diventato grande intanto scegli tu da solo pensi tu con la tua testa faccio un altro esempio tante persone giudicano quello che avviene in Italia o le decisioni che vengono prese per partito preso cioè non so io partengo non so alle idee di una coalizione per cui tutto quello che fanno gli altri che magari sono il governo anche se sono cose giuste automaticamente le ritengo pregiudizialmente sbagliate per il semplice fatto che sono decisioni che stanno prendendo gli altri noi e gli altri e questo avviene reciprocamente una coalizione nei confronti dell'altra e l'altra nei confronti della prima perché si prendono spesso delle decisioni o abbiamo il pensiero per partito preso quindi noi cosa facciamo alieniamo agli altri ai responsabili di partito ai nostri anche deputati senatori vi ricordate quello che ha detto Russone al contratto sociale noi non dobbiamo delegare ad altri noi abbiamo tutta la possibilità di assumerci le nostre responsabilità e di concepire un nostro modo di vedere le cose non dobbiamo per forza seguire pedissequamente o come dei pecoroni quello che ci viene detto da altri ecco c'è solo bisogno di un po' di coraggio di decisione il coraggio di servirsi dell'intelligenza di essa senza essere guidati dall'altro sapere aude questa è un'espressione di carattere latino che era stata già ripresa da Leibniz tra l'altro di origine latina volevo dire che vuol dire semplicemente osa usare il sale della zucca sì letteralmente vuol dire questo perché aude è l'imperativo del verbo audeo che vuol dire osare mentre sapere inizialmente significava proprio insaporire mettere del sale no? e poi da lì che poi deriva anche sapiente eccetera eccetera in pratica quindi sapere aude vuol dire abbi il coraggio di usare la tua testa abbi il coraggio di servirti lo dice lo stesso Kant poi traducendo di servirti della tua propria intelligenza questo dunque è il motto dell'illuminismo ci dice Kant e poi ancora spiega meglio vi ricordate quello stato di indecisione di mancanza di coraggio di cui abbiamo parlato prima lo dettaglia e dice pigrizia e viltà sono le cause per le quali tanta parte degli esseri umani dopo che la natura li ha da lungo tempo liberati dall'altrui guida naturaliter maiorennes rimangono tuttavia volentieri minorenni a vita ecco occorre imputare alla pigrizia e alla viltà cioè mancano di onestà intellettuale queste persone che non non si prendono le loro responsabilità queste persone quindi che non usano la ragione ma seguono in maniera quasi inerziale quello che che dicono ecco Kant fa riferimento certi libri oppure certi maestri spirituali o certi medici o dottori che si occupano magari della dieta delle persone insomma lui fa degli esempi come dire che l'autorità ecco come dire non può sostituirsi a te tu devi avere in mano la tua vita quindi tu devi appunto operare le tue scelte non essere pigro perché è chiaro che usare la testa è anche faticoso da un certo punto di vista sappiamo che anche da un punto di vista fisico effettivamente lavorare intellettualmente parlando consuma delle calorie adesso ho fatto questo discorso un po' banale se volete ma è in dubbio che non è così semplice per esempio quando chiediamo ai nostri alunni di tradurre una versione o di fare un esercizio di matematica chiediamo loro di far fatica anche perché è più semplice che ne so trovare la versione già tradotta su internet oppure ecco proprio visto il discorso che stavamo facendo adesso di internet quante volte noi invece di pensare autonomamente e quindi in maniera razionale ragionevole sulle cose ci affidiamo agli influencer ci affidiamo agli opinionisti ci affidiamo a quello che è scritto sulla rete se c'è scritto su google oppure su quello che noi riteniamo che ne so un sito importante eccetera eccetera allora noi pensiamo questa cosa se ci hanno mandato ci hanno condiviso uno screenshot un posto un articolo eccetera ma guarda un po' questa cosa ci credo subito immediatamente senza porre quella critica insomma pormi la domanda se effettivamente quello che è stato è stato scritto è stato condiviso è vero oppure no così si diffondono le fake news ad esempio ecco la pigrizia e anche la viltà certe volte sì perché addirittura questa è una cosa ancora più sottile in che cosa consiste questa viltà questa disonestà intellettuale nel fatto che tu hai la possibilità di pensare hai la testa insomma per poterti liberare dall'altrui guida ma non lo fai sotto sotto sei consapevole di questo non lo fai hai deciso di non farlo perché è più comodo così è più comodo seguire il pensiero degli altri tu che sei naturaliter maio rennes voi che siete naturaliter maio rennes cioè maggiorenni per natura dopo i 18 anni per esempio dice e canta addirittura da lungo tempo perché c'è chi ha 18 anni chi ne ha 20 chi ne ha 30 40 50 chi ne ha 60 come sottoscritto ebbene potresti decidere di rimanere malgrado ciò tutti gli anni che sono passati da quando sono maggiorenne potresti decidere di rimanere minorenne a vita e per questo riesce tanto facile ad altri erigersi a loro tutori a questo punto ti troverai appunto il il predicatore il santone il come dire dicevamo appunto l'opinionista l'influencer di turno che riusciranno a carpire la tua opinione intendo dire la tua approvazione e quindi ad alienarti a farti pensare come pensa lui è così comodo essere minorenni se ho un libro che ha intelletto per me perché devo fare uno sforzo c'è il libro che fa lo sforzo per me ecco adesso lui stava parlando di libri perché era una società in cui non c'erano i mass media ma noi potremmo dire se ho la televisione che 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 pensa per me perché dovrei dovrei fare lo sforzo di pensare se ho un direttore spirituale che ha coscienza per me se ho un medico che valuta la dieta per me eccetera eccetera ovviamente il discorso del medico è molto discutibile perché in certi casi vale proprio la pena comunque se non si hanno determinate conoscenze scientifiche come dire tener conto del parere di un medico anzi in tutti i casi se possibile o quasi tutti però ecco Kant ce l'ha con quelli che alienano le proprie decisioni la propria capacità di decidere ad altri non ho certo bisogno di sforzarmi da me non ho bisogno di pensare se ho un libro o qualcun altro che pensa per me che decide per me purché sia in grado di pagare ecco posso anche pagare queste persone posso anche dare dei soldi a queste persone perché mi lasciano la conscienza tranquilla altri si assumeranno questa fastidiosa occupazione al mio posto e allora invece dice Kant no noi dobbiamo fare affidamento sulla nostra ragione abbiamo una ragione più che sufficiente per poter pensare da soli per poter decidere da soli senza bisogno di guide altrui ma quale restrizione è d'ostacolo all'illuminismo e quale non lo è ma piuttosto lo favorisce io rispondo il pubblico uso della propria ragione deve essere sempre libero ed esso solo può realizzare il rischianamento tra gli uomini al contrario l'uso privato della ragione può essere spesso limitato in senso stretto allora attenzione qua lui fa una distinzione importante fra uso della ragione pubblico e uso della ragione privato lui dice quando per esempio uno studioso usa la ragione e poi pubblica dei libri per esempio partecipa a conferenze espone le sue teorie innovative possiamo parlare di uso della ragione pubblico in quel caso questo studioso ha la possibilità di esprimere gli altri quindi anche di diffondere delle idee nuove come ad esempio quelle dell'illuminismo l'illuminismo lui dice è ancora in una fase non compiuta è appunto un rischiaramento che però non è arrivato ancora a rischiarare tutto non è la nostra lui dice unità illuminata ma unità dell'illuminismo quindi sulla via effettivamente di questo rischiaramento della ragione ma non ancora ha raggiunto questo lume in maniera così potremmo dire mondiale totale ecco ecco quindi l'uso pubblico della ragione è il caso appunto suo perché lui appunto fa docente scrive libri li pubblica eccetera eccetera al contrario l'uso privato della ragione può essere limitato in modo stretto ecco in particolar modo qua Kant si riferisce al lavoro che uno ha ad esempio uno lavora magari per una chiesa fa il catechista oppure lavora per un esercito fa il soldato oppure anche semplicemente lavora anche per per lo stato fa l'insegnante in questa veste la sua libertà di poter appunto esprimere queste idee nuove è limitata ma lui dice che è giusto così Kant non è per la disobbedienza civile cioè lui dice che nel momento in cui ho un compito e mi ritrovo all'interno di un come dire di una istituzione ecco che ha determinate regole ad esempio una pubblica amministrazione è giusto e corretto che io segua le regole di questa istituzione poi una volta magari terminato l'orario di servizio oppure una volta terminato il mandato una volta terminato il servizio militare eccetera avrò tutta la possibilità di esprimere le mie critiche ritengo importante interessante e giusta questa cosa pensate nel mio caso io faccio dirigente scolastico non è che posso come dire contravvenire io ho un ruolo anche istituzionale quindi devo seguire le leggi devo applicare le leggi scusatemi ma mi sembra palese questa cosa ciò non toglie però che io posso anche approfondire le cose arrivare anche ad avere dei pareri diversi rispetto a quello che viene espresso persino nelle leggi e posso scrivere dei libri con l'intenzione anche di poter cambiare migliorare la società perché questo è anche uno degli scopi più importanti dell'illuminismo no? bene continuiamo a leggere finiamo di leggere l'ultimissimo brano che leggiamo insieme senza che il progresso di rischiaramento venga da questo particolarmente ostacolato ecco vuol dire questo appunto Kant che a suo parere comunque il fatto che ci sia un uso privato della ragione non ostacola il rischiaramento cioè il processo quindi dell'illuminismo della diffusione delle idee nuove secondo lui no non l'ostacola lo mette semmai in stand by dicevamo temporaneamente ma non l'ostacola assolutamente intendo quindi per uso pubblico della propria ragione l'uso che uno ne fa in quanto studioso davanti all'intero pubblico dei lettori chiama invece l'uso privato della ragione quello che a un uomo è lecito esercitare in un certo ufficio o funzione civile a lui affidata ufficio o funzione civile nell'ambito della quale gli è concesso dire determinate cose e invece non gli è concesso dire altre cose o scrivere altre cose infatti dobbiamo spiegare che Kant non è assolutamente un rivoluzionario cioè non vuole non so ribaltare il potere non lo vuole nel periodo di Federico II di Prussia che addirittura anzi è consentaneo con Federico Federico un sovrano illuminato ma oserei dire che non lo vuole neanche durante il regno di Federico Guglielmo II che invece è un po' più arretrato come sovrano però lui in quel caso non fa altro se non attuare quello che ha scritto in questo che cos'è l'illuminismo cioè nel momento in cui occupa un certo ufficio una certa funzione ad esempio di insegnante di professore universitario eccetera una funzione civile eccetera può esercitare è l'uso privato della ragione quindi può esprimersi all'interno di certi confini poi quando smetterà di fare l'insegnante per esempio perché andrà in pensione oppure in altre occasioni potrà esprimersi liberamente questo è quanto volevo dirvi comunque molto importante concludere il nostro discorso spiegando che per Kant fonte ultima dell'autorità è la ragione non è la tradizione cioè non si può dire una cosa è giusta perché la tradizione dice così no una cosa è giusta perché io con la mia ragione arrivo a capire che è giusta come dice giustamente Barbara Setti la libertà interiore richiede molto coraggio Kant quindi incita invita al coraggio delle proprie idee ecco qui ho messo una slide relativa al pensiero di Voltaire ma oserei dire che sotto questo punto di vista sulla questione ad esempio religiose Kant ha un pensiero abbastanza simile a quello di Voltaire che è decisamente più favorevole insomma all'uso della ragione anche nel campo religioso e contro ogni dogmatismo che è esattamente il contrario dell'illuminismo così come lui lo concepisce benissimo andiamo pertanto adesso a leggere alcuni commenti che sono stati scritti dai nostri amici il Little Melvin voleva dire semplicemente questo che nella vita vale la pena anche essere disposti a cambiare idea perché non è così sano a pensare in maniera fissa in un unico modo perché non si è disponibili a mettere in discussione come diceva giustamente anche la nostra Barbara mettere in discussione con la libertà di pensiero con la libertà interiore mettere in discussione perché ecco un altro motivo un altro aspetto che sicuramente induce molte persone a non usare la ragione hanno paura di mettere in crisi le loro idee idee che si sono consolidate nel corso di tutta quanta una vita però potrebbe essere invece questo un esercizio sicuramente faticoso in un primo momento ma poi produttivo in un secondo in un secondo